Grazie direttore, un saluto a tutti, ai sindaci, ai deputati regionali qui presenti, se ne sono anche nazionali? Non ne ho viste, in ogni caso ai parlamentari tutti, così evitiamo omissioni, ai colleghi della stampa e a tutti voi che volete con noi condividere questo momento di festa. Mi provo rabbia quando sento dire una giornata storica, in altre parti d'Italia questi eventi sono ordinari, già questo ci dà l'idea della cultura alla quale noi siciliani siamo abituati, siamo abituati alla cultura della rassegnazione, siamo abituati al fatto che un'opera pubblica debba durare 10 anni, 15 anni, ecco perché se poi dura qualche anno di meno diventa una giornata storica. Forse i miei figli un giorno riusciranno a partecipare a cerimonie come queste, senza sentir dire che è una giornata storica. Siamo un popolo con mille difetti noi siciliani, ma abbiamo questa grande capacità di rassegnazione, per cui ci abituiamo a tutto. Quando ci siamo insediati nel dicembre del 2017, con l'assessore Falcone ci siamo guardati in faccia. Io lo conosco perché i primi passi in politica li ha mossi accanto a me, in quanto più avanti negli anni naturalmente. Abbiamo detto o il CAS lo restituiamo a Roma o lo facciamo diventare una cosa seria. Per noi era una zavorra in quel momento, era stata poco meno che una bettola di malaffare. non serviva alla viabilità e tantomeno alle autostrade, serviva a fare clientelismo, assistenzialismo, bassa cucina. Abbiamo deciso, come siamo sempre abituati a fare, con le grandi sfide. Va bene, vediamo, proviamo a rilanciarlo. È stata una sfida davvero difficile.